Una trentina di scrittori mobilitati dal Touring Club per raccontare il nostro viaggio in Italia regione per regione. Su questi temi escono anche in cammino itinerari tra emozioni e storie di Maurizio Bono per Vallardi e la guida alle langhe in bicicletta di Paolo Casalis per le produzioni fuori fuoco.